Siamo ormai nel pieno di Euro 2020, allora è arrivato il momento di vedere che fine hanno fatto i giocatori di alcune delle nazionali che hanno fatto la storia degli europei recenti. Oggi partiamo dai campioni in carica, da quel Portogallo che nel 2016 sollevò il primo trofeo internazionale della sua storia. Come forse sapete in queste prime settimane siamo a Londra a seguire l'Europeo per voi per portarvi contenuti sempre freschi e sul pezzo. Ci piacerebbe seguire Euro 2020 con tutti voi, quindi iscrivetevi al nostro canale per rimanere in nostra compagnia. Il 10 luglio 2016 sul prato dello Stade de France di Saint-Denis il Portogallo scende in campo contro la Francia per giocarsi la finale di Euro 2016. Il Portogallo ha faticato in un girone sulla carta non difficilissimo, passando solo come terza con tre pareggi contro Islanda, Austria e Ungheria. E i lusitani faticheranno ad avere la meglio nei 90 minuti anche nella fase a eliminazione diretta. La Croazia agli ottavi viene superata solo ai supplementari. Contro la Polonia ai quarti sono necessari i calci di rigore, mentre contro il Galles in semifinale arriva il primo successo nel tempo regolamentare. Una vittoria 2-0 che permette alla squadra di Fernando Santos di staccare il biglietto per la finale di Saint-Denis. E anche la finale verrà decisa ai supplementari, peraltro con un gol dell'eroe più inatteso. L'allenatore di quella squadra è appunto Fernando Santos, è uno che in patria ha allenato tutte le grandi. Benfica, Sporting Lisbona e Porto. E proprio con il Porto ha vinto anche un campionato e alcune coppe, ma ha allenato molto tempo anche in Grecia, vincendo quattro volte il titolo di allenatore dell'anno nel paese ellenico. E trovandosi catapultato nel 2010 alla guida della nazionale, che lascia nel 2014 proprio per sedersi sulla panchina del Portogallo. È in sella tuttora e anzi il presidente della Federcalcio ha confermato il suo incarico fino al prossimo europeo, nel 2024. E lui nel frattempo ha portato il Portogallo a un altro titolo, ovvero la Nations League del 2019. Tra i pali quel Portogallo schiera, come anche oggi, Rui Patricio. Allora è un giocatore di 28 anni che veste la maglia dello Sporting Lisbona, la squadra dove è cresciuto. Ed è l'unico a giocare ogni singola partita tra qualificazioni e fase finale, guadagnandosi peraltro un posto come portiere nel miglior 11 della manifestazione. Dal 2018 è agli Wolves, e oltre ad aver disputato anche un mondiale come primo portiere, anche quest'anno è lui il titolare designato della nazionale lusitana. E l'europeo potrebbe segnare un altro trasferimento per lui, visto il pressing della Roma di Murigno nei suoi confronti. E passiamo ora alla difesa centrale di quella squadra. Due nomi non sono cambiati rispetto a cinque anni fa, anche se ora hanno ormai rispettivamente 38 e 37 anni. Il più anziano è ovviamente Pepe, che in quella finale contro la Francia fu anche il man of the match, la diga che impedì ai talenti francesi di fare breccia. Allora era del Real Madrid, ora gioca al Porto dopo aver fatto tappa per il Bejiktas. E tutti abbiamo visto la sua ottima performance in Champions League contro la Juventus. Anche se ormai non dovrebbe essere più lui il titolare per i lusitani. L'altro grande vecchio è José Fonte, che nel torneo del 2016 esordì solo agli ottavi di finale contro la Croazia, diventando però subito un punto fermo di quella squadra. L'estate successiva all'europeo, dopo sette stagioni, lascia il Southampton. Seguiranno il West Ham e una breve parentese in Cina. Prima da prodare a Lilla, con cui ha appena conquistato il titolo di campione di Francia e la convocazione al nuovo europeo. Ma in quella squadra non possiamo dimenticare Bruno Alves, che proprio in quell'estate passerà ai Cagliari. E che dal 2018, l'anno in cui ha giocato la sua ultima gara in nazionale, è un giocatore del Parma. Il terzino destro di quella formazione è Cedric Soares, allora compagno di squadra di José Fonte al Southampton e futuro giocatore dell'Inter. Poche presenze in prestito per il giocatore nato in Germania, che poi verrà ceduto all'Arsenal nel 2020. Se nel 2016 era stato in grado di soffiare il posto a Vierigna e di entrare nella formazione titolare, e due anni dopo era riuscito a fare le scarpe a João Cancelo alla Coppa del Mondo, quest'anno Soares è stato tagliato fuori dalla lista dei 26 convocati di Fernando Santos. È andata meglio a Rafael Guerreiro, il titolare sull'altro lato, che quest'anno dovrà battagliare con il giovanissimo Nuno Mendes per il posto da titolare. Cinque anni fa Guerreiro fu candidato al titolo di miglior giovane giocatore del torneo, che però sarebbe stato vinto da un suo compagno di squadra. Ma quell'europeo gli valse il trasferimento quella stessa estate dall'Orient al Borussia Dortmund, dove tuttora gioca. Ecco quindi la difesa di quel Portogallo. Saranno ancora i grandi vecchi Pepe e José Fonte a guidare il settore arretrato lusitano? Ed eccoci al centrocampo, schierato da Fernando Santos con un 4-1-3-2. Il mediano di quella squadra è William Carvaio, che l'anno prima era stato nominato miglior giocatore dell'europeo Under-21, nonostante un suo errore dal dischetto fosse stato decisivo nella finale contro i parietà della Svezia. E che con la nazionale maggiore nel 2016 mostrerà tutto il suo muscolo difensivo contro la Croazia e la Francia, dando un contributo importante alla vittoria finale. Allora giocava per lo Sporting Lisbona, ora è un giocatore del Betis, e a 29 anni fa parte dei convocati per la spedizione dell'europeo. Ma il titolare stavolta nella sua posizione dovrebbe essere Danilo Pereira, suo coetaneo. Il giocatore ex Parma nel 2016 giocò diversi minuti, ma ora che è un giocatore del PSG dovrebbe essere una pedina fissa della formazione titolare di Fernando Santos. Di fronte a Carvaio eccoci al terzetto dei centrocampisti. A partire da Renato Sanchez, il giocatore che vincerà il titolo di giovane giocatore del torneo nel 2016 e che segnerà un gol importantissimo contro la Polonia ai quarti di finale. Il giocatore del Benfica quell'estate si trasferirà al Bayern Monaco, dove però faticherà a imporsi. Mentre recentemente si è laureato campione di Francia con il Lilla, ottenendo peraltro la convocazione a Euro 2020. A suo fianco c'è Adrian Silva. Allora ha 27 anni ed è un giocatore dello Sporting Lisbona, mentre ora a 32 veste la maglia della Sampdoria, ma sono ormai tre anni che non gioca più in nazionale. E il centrocampo si completa con un'altra vecchia conoscenza della Serie A. Un tale João Mario che in quell'europeo impressiona talmente da far spendere all'Inter 40 milioni di euro per prelevarlo dallo Sporting Lisbona. Il nerazzurro non convincerà e ora dovremo capire se lo Sporting, per cui ha giocato una stagione piuttosto positiva in prestito, deciderà di riscattarlo definitivamente e riportarlo a casa. Anche se ormai la sua ultima partita in nazionale risale al 2019. Ma nel 2016 gioca anche João Moutinho, allora della S Monaco e oggi degli Wolves, che sarà anche lui membro della spedizione lusitana a Euro 2020. Ecco quindi il centrocampo di quella squadra, ma ora passiamo al settore offensivo. E partiamo da Nani, perché l'ex Manchester United arriva all'europeo del 2016 dopo una stagione giocata in Turchia al Fenerbahce. Ed è lui ad aprire le danze del torneo per il Portogallo, con un gol all'Islanda che è anche il gol numero 600 mai segnato in una fase finale dell'europeo. Segnerà ancora contro l'Ungheria nella terza gara della fase a Gironi e poi in semifinale contro il Galles. Quell'estate passerà al Valencia, mentre l'anno successivo segnerà sia il suo trasferimento alla Lazio sia la sua ultima presenza in nazionale. Dal 2019 gioca all'Orlando City in MLS. Ma ovviamente il capitano di quella squadra, come anche di quella attuale, può essere solamente uno, Cristiano Ronaldo, CR7. Che nel 2016 è ancora un giocatore del Real Madrid, che è ovviamente determinante per la cavalcata portoghese. Si sblocca con una doppietta nel pareggio 3-3 contro l'Ungheria. Poi serve l'assista Quaresma per il passaggio di turno contro la Croazia agli ottavi di finale e segna il suo tiro di rigore contro la Polonia ai quarti. In semifinale contro il Galles è lui ad aprire le marcature. Insomma, dovrebbe essere il suo europeo, anzi la sua finale. E invece? E invece il giocatore che due anni dopo passerà alla Juventus si infortuna a metà del primo tempo per un'entrata dura di Dimitri Paier, che mette fine al suo torneo. Al suo posto entra Riccardo Quaresma, che nonostante la sua fama di talento sprecato gioca un ottimo europeo. E proprio su assist di Cristiano Ronaldo decide ai supplementari l'ottavo di finale contro la Croazia. Quell'anno lui, ormai 33enne, ha da poco lasciato il campionato portoghese per andare a giocare in Turchia. Da due anni ha fatto il proprio ritorno nel campionato lusitano, vestendo la maglia del Vittoria Ghimaraes. Ma l'ultima trivela in nazionale ormai è datata 2018, alla Coppa del Mondo contro l'Iran. Se CR7 è fuori dai giochi, però, allora chi è l'eroe di quella finale? È un 28enne che ha giocato a Lilla in prestito dallo Swansea City, e che risponde al nome di Ederzito Antonio Macedo Lopes. Per gli amici Eder. Ed è davvero lui l'eroe più inatteso del torneo. Perché ha messo piede in campo solo per pochi minuti, subentrando all'83esimo contro l'Islanda e all'84esimo contro l'Austria nella fase a Gironi. Poi, più niente. Solo panchina. Fino a quando, al 79esimo della finale, Fernando Santos lo mette in campo al posto di Renato Sanchez. E lui, mezz'ora dopo, al minuto numero 109, fulmina a Iori con un tiro da fuori area e mette la sua firma sul primo successo internazionale del Portogallo. Non giocherà ancora molto in nazionale. Salterà il Mondiale del 2018, l'anno della sua ultima presenza con il Portogallo. Ma è ancora in attività con la maglia della Lokomotiv Mosca, con cui ha vinto un campionato, due coppe e una Supercoppa di Russia. Ecco quindi la formazione di quel Portogallo e del suo primo storico trionfo internazionale. Riusciranno CR7 e compagni a difendere quel titolo a Euro 2020? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, premiateci con un like e iscrivetevi al nostro canale per seguire insieme a noi Euro 2020. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata. e vi auguro un'ottima giornata.